Ciao bellissimi, sono Folgrax e siamo su Fall Guys, i ragazzi cadenti, oggi sono qui per riprovare una mia vecchia storica skin, parlo, se me carica magari, dello slurpino, eccolo, bellissimo, mi raccomando ragazzi, 10.000 like per altri video dei Fall Guys, cercherò di riportarlo in live, il problema è che me lagga quando faccio live, perché streammando dal PC e giocando dallo stesso PC me dà problemi, cercherò di fare il possibile, voi lasciate like, iscrivetevi e campanella per non perdere le film. Se vi iscrivete e attivate la campanella, preparatevi perché Crax porterà qualcun altro su Fall Guys, vi aspetto, andiamo a giocare, ci vuole un pochino per caricare questo qua il setup che ho scelto, dello slurpino con sotto i guanti, con le corone, speriamo siano di buon auspicio per un eventuale win su Fall Guys che non ho mai fatto, ragazzi faccio coming out, non ho mai vinto su Fall Guys, non è che ci ho giocato tantissimo, però sia nel periodo 2020 agosto, 0, che nel periodo attuale, cioè da adesso di ritorno, avrò fatto una decina di partite, 15 partite, però non ho mai vinto, sono arrivato ai giochi finali, alla fine mi massacrano e perdo. E quindi oggi riuscirò a fare la mia prima win, lo spero tantissimo, sportellata, vai, come back nel 2020, ci piace questa modalità, questa lobby, guardate che bello è il paperottolo che va avanti, corti rex. Ci sta pure una lattina dietro l'ananas, l'importante è che non becchiamo i proiettili, perché i proiettili ci fanno abbastanza paura. Ah, ve lo chiede pure un'altra cosa, per quelli che hanno sempre giocato al gioco, eccetera, ma la skin del lupetto, il lupetto quello fox, è rara? Perché io quella lì non ce l'ho, se non ricordo male, quella lì si poteva sbloccare con i primi pass de Fall Guys. L'hanno poi rimessa? Boh, ragazzi, non lo so, io so sicuro però che mi avete detto che queste qua, lo slurpino, eccetera, sono rare con le patatine. Era praticamente il primo pacchetto in assoluto dei Fall Guys che si shoppava con l'acquisto dei Fall Guys. Uuuuh, what a noseflip per il Grax, quel portone chiuso si dovrebbe aprire, credo, esatto, me lo immaginavo. Ci qualifichiamo in 42, io credo che sia abbastanza easy, l'importante a zeccare, eh, capito che te voglio dei Grax, a zeccare il portale giusto, altro noseflip per noi. Io andrei nel portone di mid, perché si dovrebbe aprire, Grax passa. Insomma, eh, boni perché 42esimo, 40esimo, cavolo, nonostante adesso ci sia il matchmaking, quello per coppe e corone, cioè se c'ho poche corone, mi mette con qualcuno che c'ha poche corone, non mi mette con Kawaii che c'ha 20.000 corone, credo che sia ovvio. Nonostante quello ci stanno un sacco di player forti, vedete la lattina? Focalizza, Grax, l'obiettivo, devi da giocare. Sapete qual è la mappa che mi dà più problemi? Quella lì che avete appena visto con i cerchietti. Regà, saltate dentro i cerchietti, è veramente difficilissimo perché la gente te frega il cerchietto, magari se beccano quello gold e tu non lo riesci a prendere, è veramente tosta. Le run si possono fare, ma quella dei cerchi... Ho problemi ai tempi? Ce l'ho tuttora, ma proprio del brutto. Eh, vabbè, poi i problemi quelli che c'ho da testa è un altro discorso. Voglio portare anche una reaction ad un video che ho visto dove praticamente giocano tutti quanti i giochi finali e vi dicono le migliori strategie per i giochi finali. Se lo volete, ragazzi, like extra al video. Uh, c'è una lattina vicino a me! Ma siamo due lattine bellissime! Quale sarà la lattina che vincerà? Ovviamente la lattina Grax. Poi c'è pure lo dog, il Grax si butta sotto. Bene, questa è una bella run di velocità. Si parte. Occhio ai cilindri e te pareva che Grax non passa mai. Però comunque sono andato avanti, gli altri sono più veloci, non è un problema. L'importante è scivolare, saltellare, scivolare. E ho fatto mezzo saltello, però me so, comunque, buttatene avanti. Qualifica in top 29, riesca a... Arzate! Lattina! Ok, passa a sinistra. È dritto sul muso, però so comunque passato. Ok, spero di riuscire a farcela, ma... Cuidatevi che è un po' complicata. Mi basta l'ultimo pezzetto. Vai Grax, vai Grax, spegni tanto quello è fermo. Se lo le buttate sotto ti dico... Fermate, bello mio! Allora, questa partita è praticamente una partita per il rotto della cuffia. Oh, me so dimenticato! Ragazzi, se volete, sui giochi Epic Games, Fall Guys, Fortnite, quello che vi pare. C'è il codice GRAXYT tutto attaccato da mettere prima della scioppata. Se volete supportarmi lo potete fare. Io vi mando un grande abbraccio. Taggatemi su Instagram, mi trovate su Instagram, Instagram, seguitemi. Poi magari vi lascio i cuoricini, vi riposto cose bellissime. Terzo match, la Grattamelma. L'ho mai giocata questa partita? Sapete che forse... No, non mi sembra quella con i passaggi e poi il rotolone al centro che si apre. Qua me devo buttare, boys. Considerando che in quelle che conosco, sono arrivato proprio per il rotto della cuffia. Mi sa che qui non me qualifico oramai. Ce la metterò tutta in attesa dei giocatori. Dai! Spigni for guys! Se vuoi uscire in versione mobile devi essere molto più veloce. Maronna, ragazzi, questa è difficile, eh. Ve lo dico. Ma c'è sta pure il vento. Non mi qualificherò mai, ve lo sto dicendo. Ma è in discesa o in salita? Credo in discesa, non in salita. E invece, regà, è in salita. Peggio mi sento, è peggio di quella della Melma. Provo a buttarmi. A posto, subito. Mi ha dato una botta sui denti. Occhio al flipper. Ok, quello poteva già passare. E se apre pure il passaggio e questa cosa... Non è che mi piace più di tanto, però... Le piattaforme mi sembrano abbastanza umili. Al momento ci siamo. Oh, che è? Ah, il ventolone. Il ventolone. Ok, calmi, calmi, calmi. No, forse allora l'ho giocata. Forse. Sapete che non mi... Oh! Maronna, che fortuna! Boni, 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 boni. Occhio qui, con calma. Mi sa proprio che un ciccio l'ho giocata questa. L'importante è che... Ho il tempismo. Non si sa, regà, che è successo. Non si sa... No. Vabbè, mi dissocio. C'è proprio sui denti. Ma ero passato. Voglio andare a vedere come finisce la mappa per poi ristartarne un'altra. Ne facciamo un'altra. Guardate quanti ne sta killando. Ma ne rimarranno cinque, probabilmente. Tutti quanti. Laser. Questa era abbastanza easy. Di velocità basta schivare l'evento. Tanto ci sono i saltelloni veloci. Altalene. Dai, quella era la parte più difficile. Le altalene basta stare sulla sinistra. Comunque di sotto non te ci buttano. Certo, questo si sta a far ammazzare in maniera abbastanza easy. Quello è mezzo fall guy. Quello lì c'ha l'osso. Forse è avvantaggiato quello con l'osso. Lo voglio anch'io la skin dell'osso. Questo si è qualificato. No, ma io voglio assolutamente questa skin. Ma questa skin è la più bella. Ma c'ha le manine tipo Rayman. Non so se vi ricordate il gioco. C'ha uno è bello massacrato. Ma forse in tre. Che sfiga comunque. Cioè, vado a fare il terzo gioco. Che stai a fare? Pupazzo di neve. Che stai facendo? Sta praticamente aspettando la fine. Voglio vedere quanti se so qualificati. So curioso. Due o tre secondo me. Per andare poi al gioco finale. Sei. Cinque, no sei. Robbe incredibili. Va bene. Ce ne torniamo al menu. Torniamo indietro. Prendo qualche punto. E la rifacciamo. Ammazza che sfiga. Bisogna farci la mano però eh. Su quelle mappe lì. Mi ricordo anche i tempi. Quando giovo quella con lo slime che saliva. Non mi qualificavo mai. Poi con il passare del tempo. Esperienze eccetera. Diciamo ci si riesce. Mi ha ridato il rotolone in pista. Eccolo qua. Comunque fatemi sapere nei commenti. Come si può prendere quella skin dell'osso. Che l'amo. Dobbiamo rifarci rispetto a quello che abbiamo fatto prima. Che era abbastanza schipo. Però essendo il primo game non credo ci siano. Insomma guardate qua ho combinato. Però buono quel salto. Non credo ci siano infiniti problemi. Primo passaggio andato. Ce n'ho tanti davanti. Boni. Dai slurpino. Le patatine sono andate alla grande eh. Voglio pure che lo slurpino faccia lo stesso. Buono quel bustino. Ci sta. Ci sta. Ci sta. Passaggio. Ero andato un po' meglio prima. Però ci sto comunque. Speriamo di non riprenderci l'altalena sui denti. Ho fatto bene a fare questa situazione secondo me. Il passaggio a destra. A sinistra è la cosa migliore. Perché il martello è data la botta. Oh non mi strattonate. Fermatevi belli. E vai con la qualifica. Il primo game. Lo slurpino c'è. Meglio di prima. Non so se ho preso medaglie. Non credo. Però ne cadono 18. Top. Sono contento. Eccoli. Ciao belli. Ci siamo visti. Buttatevi sotto ragazzi cadenti. Ciao. Anche qua i dondoli. Insomma. Non mi sembrano chissà quanto problematici. Secondo gioco che dobbiamo passare. Per poi andare al terzo gioco. Che spero non sia fatale come quello di prima. Che ci ha bullizzato a tutti. Occhio che si è in penna. E ammazza se si è in penna. Ok. Io andrei su questo qua centrale. Che mi sembra libero da tutto. Però ci passano tutti. Come è sta situazione. Ok. Sono uno dei primi. Il bello è che. Me becco. Tutte le impennate. Se il passaggio si apre a destra lo sapevo. Infatti sto alla grande. Prima situazione andata. Ci qualificiamo in 30. Altri. Mi sembra 12 che se ne vanno. Bene. Occhio a quelli che girano. Ma non mi danno. Ne sporco tutto regà. Ma proprio. Non si sa che ho visto. Veramente indecente la situa. Ok. Vi devo dire. Ti devo dire. Che la situa fa veramente schifo. Per quanto mi riguarda. Ah. Stavamo inclinatissimi. Ah. Pensavo fosse molto più semplice. Regà. Sono sincero. Se si dovesse aprire. Eventualmente la passo qui. Ok. Era andato benissimo. Poi dopo è successo di tutto. Comunque checkpoint. Credevo fosse molto molto più semplice. Invece mi sbagliavo. I tondoli girano. Dovrei riuscire. A passare. Proprio per il rotto della cuffia. Occhio a me butto. Pure a destra. Bene. Il saltello. Questo qua mi sembra realizzabile. E poi. Passaggetto. Oh. Oh. No 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 no. Regà. Impennatela. 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 Easy. Eccolo. E forse anche top 50%. Bene. Non è purtroppo. Quell'argento. Non lo so se è quell'argento. Aspettate. Non mi ricordo quant'è quell'argento. Se è il 25 o il 20. 27. 28. 29. 30. Miglior 50%. Bene. Pure questo boys come terzo gioco. Non è semplice. Mi tocca fare un attimo la formula 1 cracks. Buttare su quello centrale. Perché gli altri sicuramente andranno a destra. Buono quel boost. Vediamo quello che succede. Ok. Saltello top. Sì. 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 Evita tutto. Eh. Ok. Sono due giri completi. Però al momento sto alla grandine. Ecco là. Subito lo stop. Ho perso qualche secondo importante. Però. Fate me prende. Sì. Sono riuscito a passare. Ottimo. Occhio al martelloide. Che potrebbe. Darmi problemi. Però buono il boost. Me ne vado pure a sinistra. Non sto andando male ragazzi. Riprendo pure il boost. Sì. 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 Per essere. Una delle prime partite. C'è una delle prime. Una delle. Poche partite fatte. Qui. Non è male. Sarebbe stato meglio prendere il boost. Non l'ho preso. Solo top 18. Eh. Ok. Col boost avrei fatto molto meglio. Però riesco comunque a passare. Questi si switchano. Top. Vai. Vai. Spingi Grax. Spingi. 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 L'inizio è facile. Molto easy. Tieni di sulla sinistra. Sì. Questo si apre. Lo sapevo. Riesco a stare sulla destra. Ottimo il recupero del piccolo. Grax. Bene. Sinistra. 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 Velocite. Fraternite. Grax. Ale. E' callate pareva. Che mo' mi tocca. Eh. Mi rallento rega. Un attimo. Sì. Undici qualificati. Potrei esserci eh. Non sono sì. Che sfiga. Che sfiga raga. Non ci voglio credere. E niente. Devastanti. I terzi giochi. E secondo me. Anche se passavo veloce. Non ce la facevo. Ragazzi. Lo sluppino. Non top. Come le patatine. Mi ricordavo infatti. Che le patatine erano su un altro livello. Però. Proverò anche le altre skin. Magari. Riuscirò a fare una vittoria. Ci becchiamo però. Nei prossimi video. Spero di riuscirci. Nei prossimi video. Lasciatemi un mega like. A full guys. Perché tornerò anche con le partite duo. Iscrivetevi. Campanella e codice crax. Domani credo video. De stumble. Un bacio da crax. Noi nel frattempo. Andiamo avanti anche nel pass. Infatti. Vediamo se c'è qualcosa da prendere. Ah. Mi devo shop al pass. Giusto ragazzi. Se non mi shop il pass. Queste sono gratis. Alcune non le posso prendere. Perché sono. Bloccate anche la skin. De assassin creed. 10.000 like. Ebbe shop per pass. Tra l'altro. Mi sa che me l'ha scammato. Perché. Chi aveva shoppato. I tempi full guys. Avrebbe dovuto prendere. Il pass gratis. Mi ricordo. Ma c'ho i kudos. E con i kudos. Posso prendere qualcosina. Ok. Questo a pagamento. Questo con l'altra moneta. Boh. Qualche texture. Qualche etichetta. Niente di incredibile. Vabbè. Ci avete il box e i commenti. Un bacio da Crax. E il prossimo video andrà meglio. Ciao.